La Juve è tra le stelle d'Europa. Con il nostro tifo aiutiamola a diventare la regina. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juve Atletico Madrid. Champions League, quinta giornata della fase a Gironi, martedì 26 novembre, ore 21. Viaggio di andata e ritorno, più biglietto stadio. Siamo a Lizzano, in piazza Matteotti 22. Per info e contatti, Antonio 348-808-8803, Cristian 349-6808-00066, Giuseppe 347-0417-623 E grida con noi Forza Juve fino alla fine!